In cantiere, gli apparichi tecnici devono avere una certa resistenza. Entrano a contatto con polvere e sporco e capita che scivolino anche di mano. Il distanziometro laser Disto X3 di Leica Geosystems è stato ideato appositamente per l'impiego in cantiere. È robusto e resistente a cadute fino a 2 metri d'altezza. Nemmeno il bagnato spaventa questo strumento solido e resistente. Il display, grazie alla classe di protezione IP65, può addirittura essere tenuto sotto l'acqua corrente. Il display ruota seguendo la direzione in cui viene effettuato il rilievo, così è più facile leggere i risultati misurati. La portata è di 150 metri e consente misurazioni con precisione millimetrica. E ci sono numerose altre applicazioni del Disto X3. Le sue avanzate funzioni lo rendono lo strumento di misurazione ideale per tutti coloro che lavorano in cantiere. Maggiori informazioni sono disponibili online.